Ospedale di Popoli a rischio chiusura. Nello specifico l'allarme del Movimento 5 Stelle è rivolto al reparto di pediatria e con lui il laboratorio di analisi. Una decisione proveniente dall'asla di Pescara che, secondo i grillini, deriva da un'errata valutazione dei servizi offerti dal presidio, che funge da struttura centrale per un bacino di utenza molto ampio. Certo, l'ospedale di Popoli non serve solo l'utenza di Popoli, ma dell'alta val Pescara, della valle Peligna e dell'alto piano di Navelli. Quindi un ospedale importantissimo e se andiamo avanti così, dimenticandoci di questa struttura, di questo presidio, potremmo arrivare prima o poi, tra qualche anno, anche allo smembramento quasi totale. Questo non è più possibile. Una risoluzione urgente, quella presentata dal Movimento 5 Stelle in consiglio regionale e che già da tempo era stata messa all'ordine del giorno senza mai arrivare ad una votazione. Io ho presentato questa risoluzione sperando che me la votassero immediatamente, invece la rinviano da oltre quattro consigli regionali. Ho più volte alzato la voce, denunciato pubblicamente questa cosa al presidente del consiglio regionale e ora siamo costretti a denunciarla pubblicamente, perché non è possibile che non ci si esprima, che la politica e i consigli regionali non si esprimano su questo atto concreto che abbiamo fatto noi. Votassero, se qualcuno ritiene che non si debba salvaguardiare l'ospedale di Popoli, può votare contro, lo diremo naturalmente all'esterno perché i cittadini devono sapere, ma non possono rinviare e rinviare per magari mascherare un voto scomodo. Questo non è possibile. Naturalmente noi abbiamo detto da più tempo che bisogna tagliare gli sprechi, non i servizi.